Sì, comunque ringrazio la società, ringrazio il mister, tutto lo sta per la fiducia che mi stanno dando, ma di sicuro è la mia stagione migliore in Lega Pro, questa con il Teramo Calcio e spero che continui così. Sì, vabbè, comunque io sono nato terzino destro, oppure ho fatto sempre il terzino destro, però comunque io rispetto le scelte del mister, dove mi mette il mister, io cerco di essere sempre pronto e fare il meglio possibile per raggiungere il prima possibile la salvezza e poi andare avanti, sempre così. Pure con il mister, con il calcio che vuole fare il mister, comunque è un calcio propositivo, comunque in Serie C non vedi tante scuole che fanno, anzi poche, che fanno questo calcio qua, quindi ci vuole un po' di meccanismo per capire, comunque piano piano ci siamo messi a lavorare, a capire i meccanismi e comunque alla fine stiamo uscendo fuori. Ringraziamo pure i nuovi giocatori che sono arrivati al gennaio, che ci stanno dando una grossa mano. Quindi soprattutto quello. Sì, ringraziamo perché sono arrivati giocatori importanti come D'Andrea, come Pinto, giocatori di Codromas, come giocatori di Cattu... Sì, comunque Pippo è un ottimo giocatore, sappiamo che è comunque un giocatore di aria, che comunque in aria fa gol, è un giocatore molto importante per noi. Comunque da quando l'abbiamo arrivato ci sta dando una grossa mano. No, comunque adesso non stiamo a parlare di... Prima pensiamo alla salvezza, che è la cosa più importante per rimanere in categoria e pensare subito alla salvezza e pensare subito a Cesena, che comunque se avremo un bel risultato, comunque poi si vedrà che si potrà fare. Abbiamo perso 4-0, comunque poi in casa non è che abbiamo fatto una bella figura. Comunque cerchiamo di andare là e cerchiamo di fare un risultato positivo e raggiungere il prima possibile la salvezza.